Ciao a tutti da Saludatore, grandissima sorpresa direttamente dalla festa del cinema di Roma eccomi con una persona che dello spettacolo ha fatto tanto, Robby Ceccacci Grazie, l'immenso amico mio, lo saluto con affetto, lui come tutti quelli che come lui combattono e lottano come noi per cercare di fare questo meraviglioso lavoro Lo spettacolo, il cinema è veramente una energia grandiosa La cosa più bella è che ci sta guardando un amico nostro che è un altro ragazzo che combatte lotta pure lui ogni tanto fa quei movimenti stupendi, è bellissimo Eccolo là, Niki Giussino Allora io ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fan che ti seguono da tanto perché tu hai fatto anche l'attore a volte di aver rappresentato tanti attori Allora io ho fatto 193 film con attore, ovviamente piccole particine, mai protagonista ma quello che conta è che io ho dato al mondo del cinema italiano personaggi che erano sconosciuti come Edwin De Freire, Barbara De Rossi, Agostina Belli, Franco Nero, Don Bacchi, Monica Covellure tutta una serie di ragazzi che hanno cominciato nella mia agenzia dal 1959 ai giorni di oggi perciò io vi bacio tutti, vi saluto tutti e vi faccio tanti auguri a tutti Grazie, ciao!